cosa è importante quando fai veramente i denti su impianti dentali la cosa più importante è fare bene i denti ok non quattro impianti dentali cinque impianti dentali sei impianti dentali questo è irrilevante puoi avere anche tutti gli impianti dentali del mondo messi in due ore in cinque ore 24 ore ma se i denti non sono fatti bene si rompono se sono di plastica si rompono se non li progetti con il computer col protocollo o meglio sistema bocca bionica i denti sono brutti da vedere quindi il segreto è replicare la natura come puoi fare una replica perfetta bella di questo albero fa una fotografia e sarà identico all'albero dopodiché la fotografia la stampi e avrai una replica fotografica di quell'albero è un pochino quello il concetto che utilizziamo noi nel nostro sistema bocca bionica per fare i denti perfetti e belli andiamo a usare scansioni tridimensionali di denti perfetti che vengono poi riprodotti con una stampante coi robot quindi sarà impossibile che i tuoi nuovi denti non ti piacciano quando selezioni quindi dove andare a fare i denti fissi ricordati quello che quello che più importa è proprio il protocollo che viene utilizzato per fare i denti questo richiede tempo dobbiamo fare delle prove finché i denti siano iper realistici non è pensabile fare tutto questo in cinque ore in due ore in ventiquattro ore fai molta attenzione perché la qualità richiede degli step dei passaggi fino arrivare alla perfezione dei tuoi nuovi denti ciao